Eccellenza? Giuseppe, non abbiamo parlato di Ferrero Rocher, non li dimentichi per la festa. Rocher? Ma in estate non ci sono, il caldo ne rovinerebbe la tradizionale qualità. E la festa? I miei ospiti ne sono golosi. I Ferrero Rocher torneranno dal 20 settembre, deliziosi come sempre. Bene, potremo dare il ricevimento dopo il 20 settembre. Senz'altro, signor ambasciatore. Grazie.